A Diego di Natale, mi fai tutti ieri? Ciao, sei qui di Palfolto? Sì. E dove siete? In Prescita. Noi siamo di potere al popolo. Siamo di parola. E dopo ti fa là? No, ma la fa la parola, vuoi partecipare? Grazie mille. Siamo volantinati in solidarietà contro lo sfruttamento dei lavoratori del commercio nei giorni di festa. Stiamo dando questo volantino. Abbiamo girato un po' qua per la galleria di Termini. Ci siamo fatti buttare fuori dai vigilantes e adesso stiamo continuando a volantinare qua di fronte alla galleria. Siamo di potere al popolo, siamo venuti qui alla galleria della stazione Termini dove tutti i negozi sono aperti. Perché siamo venuti proprio qua? Perché noi pensiamo che questa cosa di far lavorare le persone, anche il 26, quando dovrebbe essere il giorno dedicato ai panettoni e agli avanzi della cena di Natale, non è proprio un gran che bello. E pensiamo che la maggior parte dei lavoratori vengono sfruttati per questo. Cioè i contratti ormai prevedono che si lavori sempre, che si lavori il sabato, si lavori la domenica, si lavori i giorni di festa e spingono anche le persone ad andare poi nei posti a comprare cose quando invece forse ci sarebbe altro da fare. Ma noi fondamentalmente pensiamo che primo bisognerebbe lavorare meno e lavorare tutti con un salario dignitoso, senza essere sfruttati da nessuno, dalle grandi catene, dai supermercati, anche dai piccoli commerci. E poi pensiamo che dovremmo iniziare a riappropriarci delle nostre vite, quindi capire che il tempo per noi, per le famiglie, per i nostri amici è un tempo prezioso. Lavoriamo per vivere, ma non dobbiamo vivere per lavorare. Potere al popolo! Potere al popolo! Lavoriamo per vivere, ma non dobbiamo vivere, ma non dobbiamo vivere, ma non dobbiamo vivere. Lavoriamo per vivere, ma non dobbiamo vivere.